Musica Potente appara ragazzi, qua è Axel, ho giocato, ci sono da sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video Che ragazzi è un nuovo episodio appunto dell'Axel's Road to Glory L'Axel's Road to Glory è quella serie nella quale io partendo da zero, partendo dalla squadra iniziale Cercherò, magari andando ad aprire anche qualche pacchetto, ad arrivare alla prima divisione Appunto cercando di vincere il maggior numero di partite Comunque prima di iniziare volevo dire un paio di cose La prima è che se mi state sentendo in questo modo è perché sto cercando di non urlare Tanto che ci sono i miei genitori che tecnicamente parlando starebbero dormendo Ma questo è tutto da vedere perché eventualmente li sveglierò E secondariamente volevo ricordare come sempre di passare da FIFA Con gli stessi interessati a comprare anche di FIFA E passateci mi raccomando in questi giorni Perché infatti, non so se ho fatto già un video o meno riguardante esso FIFA con gli stessi sta facendo degli sconti abbastanza buoni Quindi mi raccomando passateci E detto questo possiamo iniziare con il video Ora sto, state vedendo che appunto il mio primo questo di questo episodio Che infatti è Depay Memphis Depay Ma come ho fatto a prenderlo? Ho appunto aperto gli altri pacchetti che mi rimanevano Appunto dovuti all'apertura dei pacchetti su FIFA World Cup Perché non so se lo sapete o meno Anche che credo molto, probabilmente voi già lo sappiate Se aprite un pacchetto su FIFA World Cup ne avete uno da 5.000 gratis Su Ultimate Team normale Se voi invece non siete riusciti ad aprirle E non avete appunto questi pacchetti disponibili Cercate di vincere il mondiale su FIFA World Cup Perché se lo vincerete non riceverete più i soliti 30.000 crediti Ma bensì 60.000 crediti E così vi farete già dei crediti da poter utilizzare Magari comprando qualche giocatore Come ho già detto io ho preso DeFi E ho preso un secondo giocatore Che è appunto Wijnaldum E ragazzi Wijnaldum è veramente una bestia Ma andiamo a vedere come si presenta Prima partita incontro un avversario che mi sembra abbastanza forte 4-3-2-1 della Serie A Io dico Aia, qua è dura non perdere Ma guardate un attimo cosa si inventa Wijnaldum Mancino da praticamente fuori ara Gol asso Quindi ragazzi Wijnaldum è veramente una bestia Ma soprattutto quella è la sua caratteristica migliore E che costa veramente poco Comunque ragazzi adesso intanto Mentre voi appunto starete vedendo i gol che ho fatto in questa partita Che andrò a vincere anche dilagando Volevo un attimo parlarvi del perché appunto Io faccio il video a quest'ora E appunto quindi per del perché il mio parlare Appunto vi andrò a spiegare il perché del mio parlare Come ho già detto ci sono i miei che stanno dormendo Ma sto facendo il video adesso Perché ora sarò in vacanza E dato che non volevo restare inattivo Perché voi stimateci poi Mi dispiaceva appunto in generale Lasciare proprio il canale senza video Lo sto appunto facendo adesso Per poi portarvelo Durante questa mia assenza Quindi se non vi rispondo ai vostri commenti E appunto questo è il motivo Perché là non credo che appunto andrò a vedere spesso YouTube E andrò a rispondere a tutti Perché col telefono non mi riesce Non so perché Ma non mi riesce Comunque c'ho Pucci a fianco Che vi saluta Me l'ha appena detto Volevo vabbè ringraziarvi per tutto il supporto Che mi stavate dando Non so quanti iscritti sono arrivato Però Trank Io punto Ad arrivare Ecco questo sarà un mio traguardo personale Vabbè Ai 100.000 Per il derby Per il derby che se non mi sbaglio All'incirca il 23 novembre Quindi ragazzi Noi per il 23 novembre Dobbiamo arrivare A 100.000 iscritti Ci proviamo E proviamoci Comunque vabbè Qua come vedete La partita finisce O vinco 5 a 1 E poi cosa faccio Vado ad aprire altri pacchetti Perché mi servivano altri chiediti Per andare a comprare chi Un terzino sinistro Un terzino sinistro Chiamato Van Anolt Se non mi sbaglio Non va abbastanza ambiguo Che però anche lui È veramente forte Quindi ragazzi Uno dei consigli che vi do È quello di fare Di costruire Come sto facendo io Questa squadra Perché non costa neanche troppo Non dico che costa pochissimo Perché infatti Ha dei giocatori Quali Depay Oppure lo stesso Van Anolt Che costa un abbastanza Mi ricordavo che questo giocatore Tipo due mesetti fa Costava 4.000 Ora costa 16.000 Quindi ciò non va molto bene Però veramente Fatela sta squadra Perché è veramente forte Provate anche questo difensore Che ho appena comprato Bamba End Il nome dice tutto Anche se se devo essere sincero L'ho comprato per sbaglio Perché infatti Mi serviva un difensore centrale Che facesse intesa Il centrocampista centrale Austriaco Del Mainz Solamente Non so se avete Se avete mai fatto caso Il simbolo del Mainz È praticamente uguale A quello del Francoforte E ciò appunto Mi ha fatto confondere Perché infatti Mi serviva un giocatore Che deve essere doppia intesa All'austriaco Al centrocampista austriaco E ne ho preso uno Che gli dava intesa normale Ciò non andava bene Però Bamba Enderson Si è dimostrato una bestia Nella sua prima partita Mi ha fatto una doppietta E C'è Un difensore che fa doppietta Nella sua prima partita È veramente il top Comunque Anche questa partita Guardate un po' Ho trovato un giocatore forte Con una buona squadra E pensavo di perderla Vincevo 2-0 Mi ha rimontato 2-2 Ma all'ottantanovesimo Depay Segna E sigla Il gol del 3-2 Che ci porterà a vincere Anche questa partita Ma ragazzi Vi devo dare una brutta notizia Una bruttissima notizia Perché infatti In questo episodio Vi dimostrerò Quanto FIFA 14 Faccia schifo O meglio Quanto Alcune partite di FIFA 14 Facciano schifo Perché Voi potete dominare la partita Potete far più tiri Ma se FIFA 14 Ci vuole far perdere Ragazzi Voi perderete Mi spiace dirlo Soprattutto Se c'è un giocatore Perché io ho notato Che perdo Quando perdo Perdo spesso Con gente Che utilizza Cavani Io non so il motivo Ma Cavani È la mia bestia nera Comunque andiamo a vedere un attimo Io parto Tutto gasato Faccio già il primo gol Su rigore Poco tempo dopo Faccio un secondo gol Non dico Bello Ma anzi Abbastanza schifoso E dico Beh dai Già al 2-0 Al venticinquesimo Non mi sembra male È partita bene la partita Cioè Ma che collegamento ho fatto Comunque Poi cosa succede Faccio un errore difensivo Lui tira Fa un 3-60 Tira Fa un trickshot E fa gol Quindi 2-1 Al quarantunesimo Al settantesimo Cosa fa Già a mutinio Lancia Cavani Non lo riesco a fermare Con nessun difensore E Cavani Sigla al 2-2 Dico No Vuoi vedere che la perdo Cavani La mia bestia nera Ma no Invece no Perché al 74 Noi non siamo molli Pallonetto di Alan Gol del 3-2 Dico Ce l'abbiamo fatta Finally Ma capovolgimento All'ottantesimo Tre pari No Si giusto all'ottantesimo Tre pari Sempre di Cavani Poi Amestre Rodriguez Lancia ancora Cavani Bamba Anderson Non si sa cosa Indovinate un po' Cosa si stava facendo Comunque lascia andare Cavani E Cavani Sigla a gol Andiamo a perdere La prima partita Di tutta questa serie E qua ero arrabbiato Ho detto No basta Non ne faccio più Quindi facciamo concludere Qua l'episodio Comunque ragazzi Non avevo molte cose da dirvi In questo video Dato che l'ho detto In tutti i video Che ho fatto oggi Quindi comunque Spero che vi sia piaciuto Vediamo se raggiungiamo I 3000 mi piace Quindi ragazzi Ricordatevi di iscrivervi Per stare fai con stessi E detto questo Io vi saluto E dico potenta Palla di centro Al prossimo video Bolla Grazie a tutti